yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi da come potete vedere siamo qui con un nuovo video lotto con tanta roba interessante vi dico che proprio lui è quello con la roba da cp quello esotico quello interessante quindi sarà tanta tanta roba ma ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati dal miglior negozio sul pianeta fantasia store vi vende di tutto hanno carte hanno fango hanno lego non hanno la mia voglia di vivere però per tutto il resto ce l'hanno ovviamente se volete acquistare qualcosa e risparmiare ma nel contempo supportarmi trovate il mio referral link il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per jack store il miglior negozio per l'acquisto di prodotto giapponese e coreano di yuki per quanto riguarda il coreano e giapponese one piece poi c'è anche roba giapponese di yuki ci sono anche le carte bandai di yuki con le vecchie le gradate le sleeve e tanto altro ancora quindi ovviamente il referral link e codice sconto sempre qua sotto in più se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo andiamo ad aprirli sì perché sono due allora erenz abbiamo un po di robetta da aprire molto simpatica e non ricordo in quale dei due ci siano i soldi veri però vediamo dovrebbe essere qua il soldo il denaro quindi partiamo da quello un pochino più tranquillo un pochino meno interessante però comunque sempre con delle cartine belle mamma mia quanto mi sento grosso cazzo fortissimo hulk in confronto a te non è niente eh lo so guarda un po' ragazzi eh 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 guarda un po' la roba la roba bella che mi è arrivata la roba e qua c'ho un ginzo per te altra roba che vengo a prendere nazionale arrivo lì col coltello da te e gli dico damme il mio cazzo di ginzo siamo in strada in strada in strada insieme tu mi devi qualcosa per quel gin amata il box era figillato era già aperto mamma che cos'è boh un po' di roba random bello bene sì vediamo vediamo oh qui è roba slivata quindi potrebbero esserci dei soldi io andrei a controllarlo dopo partirei da questo controlliamo cosa c'è fatto controllato vediamo questo eh controllato c'è niente bene andiamo sulle cose un pochino più interessanti che qua oh col by the grave sì in versione platinum finto però è platinum il nuovo platinum è più carino sì forse mi si confonde un po' con la prisma quando le vedo un attimo devo capire bene perché non è detto che si veda il logo allora abbiamo replica del mago mudora uuu 2 euro poi vabbè uuu 2 euro 2 euro sì 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 no 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 questo sarà un lotto da boh 2 euro stai saltando così tante robe interessanti cosa sto saltando di interessante l'oceano leggendario tua madre l'oceano leggendario guarda un po' questo specchio sangriera bello ma terizia 2 euro ma è the back 2 euro sì 2 euro scusa io che credo che ancora stia 20 euro come quando aveva monostampa e si è giocata per un periodo ma vabbè baria dimensionale un test dispositivo luna roia no ragazzi voi non potete capirlo noi due ci siamo già intesi allora poi abbiamo maniera infestata uh questo qui da rarity 2 euro no non ci sta a 2 euro poi abbiamo questo unicorno ultimate 1 euro e 20 alfa dragostapelia ultimate finto finto non più sovrano scuro finto no è vero poi vabbè uno questo collector poi libro di maggiori giudizio scavi fossili araldo libro che rubi mamma quanti soldi ci saranno qui 3 euro io però no dai ne ho contati almeno 7 e 20 7 e 20 quei 20 centesimi da cosa derivano eh preso in contropiede allora abbiamo anche abbiamo piccolo mondo ho barile di ghiaccia che mi hanno detto che non è una carta di merda fa culo lo vi stai giocare solo in antometa poi vabbè uh un veiler poi abbiamo dei trucca fantasma trucco win oh oh belle ste carte della rarity ragazzi questa è bandita vi ricordo che continuate a dire che la rarity 1 sei più bella della 2 oh mamma mia quando beccavi questi e anche la sua versione quarter cosa volevi fare prendimi un coltello si sgozzavi va bene rarity 2 è migliore della 1 ah anche la quarter che fai ti sgozzi cavaliere scontro luna leggerò tutte le lune che trovo eh poi drago abisso occhi blu guidatur collector mamma mia numero 100 guidatur penso guidatur io ce n'ho una guidatur quarter limite di vocazione prigione luna richiamo vabbè la virtuosa richiamato e coso per i piccioni buttiamo via sta immondizia tanto è vota poi abbiamo vabbè delle comuni questa non è quella che costa questa roba da mp non ci sarà mai cacitira ferrir scommet ti immagini un boh un magnamut ci sta fulmine tempesta uh un altro fulmine tempesta ma non è da igas dragostapelia giacalop è un altro fulmine ecco ragazzi queste sono le carte più costose di questo lotto stanno ben a 3 euro l'una bravo il mondo migrabrezza vabbè kit piccolo mondo un hash un po' di roba a caso un ogre carina bocciolo barone erenz tu non sai ma io attualmente ho penso 50 baroni tutti dopo sbanned me l'hanno lanciati tieni tanto questi immondizi tanto tu compri tanto tu raccogli sulla merda quindi si si ne riparliamo tra un paio d'anni quando lo sbannano e ci farò tipo 8000 euro sopra si con tutte quelle ristampe come minimo ci fai 3 euro e 20 ma va bene no no perché Konami tanto non me lo printa più 3 anni spariscono tutti i baroni e vedrai chi fa buy out e la carta sale a stecca a un prezzo insensato e si gode barone ristampato in un set chiamato synchro return for smashing the market oh questa dovrebbe essere la roba che costa nanino vediamo se riesce a indovinare una carta ho punitore apertura marchiata quella bella l'enchantress sta salendo l'enchantress è mia moglie praticamente il problema è che l'hanno printata due volte Ugin anche quella mi sembra sia salita vabbè qua abbiamo un talento tattiche triple onesto poi l'ululit di spiana anche questo non è male caduto di albats quarter e per concludere bucciavo di fuoco quarter questo è bello potente diciamo falso dovrebbe stare forse a 15 più o meno stessa cosa di albats quindi non è male bene adesso andiamo a lui il lotto che mi ha fatto svenare e che mi ha portato via tanti soldi però però che fai rifiuti io non so quel tipo di persona che dice no io piuttosto mi faccio i debiti e vado in bancarotta vado sotto un ponte per portarvi i contenuti era un dissing sei tu che parli alle persone ah hai ragione comunque il pacco era fatto bene spero che anche le carte siano messe bene perché ce ne erano un paio veramente grosse uh tutto sistemato bello nell'album nei due album eh la bella nei quattro album no tre album da uno sono diventati due da due sono diventati quattro vincchia no sono diventati tre mi ci vedo doppio quattro crasti vorrei prendere quello meno costoso per partire ma qua vedo soldi a ogni pagina che apro apri il primo e feria cazzo vabbè parti con le magie che sono sempre più sì era questo era questo sì 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 godo oddio mi sembrava un altro lotto che c'era questa carta adesso ve la faccio vedere vi premetto che questa carta non vale un cazzo ricordavo di un ragazzo che me l'avesse proposta ma non mi ricordavo effettivamente chi fosse e quindi così ho lasciato stare però adesso ve la faccio vedere perché sono tanto contento andrà a finire in collezione valore della carta zero ripeto però però ha un valore sentimentale per me eccola ho capito cos'è eccola ho capito cos'è sto lotto brutto pezzo di me bella quella eccola questa la volevo quella quella è tanta roba anche se non sembra tanta roba ragazzi perché ragazzi rappresenta praticamente la storia del gioco in Italia e Dario Longo è il ragazzo che ha vinto il mondiale in Italia sì nel 2006 in Italia ha vinto il mondiale in Italia il ragazzo italiano che ha vinto il mondiale nel 2006 e quella è una carta di partecipazione nel Faro Tour ovvero l'ultimo torneo decente porca troia che bello scusatemi scusatemi che bello i ricordi dell'Upper Deck mi stanno passando tipo con la sigla di Yu-Gi-Oh! GX dietro che bello Yu-Gi-Oh! GX perché gliel'hanno fatti fallire e sono cose molto molto belline io adoro ste cose valore zero ripeto però Dario Longo è irreperibile è impossibile quindi quando l'ho visto ho detto cazzo deve essere mia non mi importa non ha prezzo non la tiro fuori perché non voglio smintarla quella va in collezione punto e va bene poi abbiamo un bello esplosione dello scudo un rinolato molto carini ma io ti dirò questa qui uguale perché ce ne sono tipo tre copie identiche con la firma così in diagonale l'avevo vista tipo a 400 euro si bei caricata sì va bene dai a tutti piace sognare come chi vuole vendere Magikarp a 1500 euro ma cioè è una carta che non ha valore quindi boh però è carina mi piace sono contento proprio allora vediamo andiamo avanti vediamo cos'altro c'è vabbè cannonata nera carta bello carina anche il nubiano anche il guerriero rotame molti ricordi qua dentro allora andiamo avanti messa a punto urgente anche questa carina ho visto un paio di carte molto simpatiche questa da tp2 mamma mia le rae da tp2 da 3 euro e 20 sì e sinceramente io non disegno queste cose poi grisful charity anche db2 db2 ok e ce ne ho una anch'io anche questa penso sia almeno a 5 euro e poi abbiamo due stratos di pt03 che dovrebbe essere faro tour faro tour sì no stavo pensando un attimo al 2 il termino il preview eh certo poi sono carte carine cassa curibo con l'art alternativo da cp02 che è questo prima uscita solo da videogioco sì webbook of mundas dsc probabilmente bellissimi questi da db2 i cyberstein li ho finiti devo prendere sono molto bellini poi questi da db2 messi ex dai non sono nm perché ho visto dei difetti avevo detto l'nm non esiste sì ma aspetta no belli i ragazzi sterali sono incredibili poi il ragazzo ci teneva ma ha detto proprio facci un video su sta roba sono solo che contento allora ragazzo scusa se sto memando no ragazzi questa questa è importante questa devo farla spari prima reprint ad agosto prima che asca la reprint poi abbiamo due maestro dell'altra dimensione carini questi che ce li ho pure ultimate vieni a posto e flex fuga e volta ex bello sì però è tipo pur ok poi abbiamo doppia meta doppia metamorfosi non è male no cavolo cappella questo ordinino è carino dai sì in prima edizione una sì una no diciamo che per il mazzo got attualmente ho varie possibilità perché di meta me ne mancavano o uno o due quindi nel caso posso anche pensare di portare una roba del genere poi abbiamo tre lumine un sanghan da dr2 sì no db2 era una degli alberi un altro pulibo lancia infocata da questo in prima lancia infocata da dov'è tp1 tp1 0 0 è morto 0 10 no è che ho girato ho visto cose io non ho visto niente quindi voglio vedere un attimo quella lancia infocata è in italiano eh sì com'è messa vabbè sta 10 euro è un good vabbè sta 7 euro vabbè ma è roba che non si vende comunque allora giro sì sei pronto sono pronto sono pronto ah no questa abbiamo già vista una mia cake w cake w cake w cake w vabbè il serpente ha visto i giochi migliori non so da chi partire vedere un attimo le condizioni dal book no il book è l'ultima cosa dai dal book dopo mi rovino tutta l'esperienza esatto così almeno spai se devi piantere o meno grinze sul front non ne vedo ragazzi ok non ha grinze molto bello eh eh sì ho paura di tenerlo in mano questo adesso piano piano si rimette dentro eh diciamo ti prego mettile in una perfect no sì se proprio voglio essere fiscale è nm meno perché io ho visto un puntino infinitesimale piccolissimo eh e questi guarda il tuo paypal vedi che ti sono arrivati 400 euro adesso cosa andiamo col cyber and dragon perché ragazzi non è ultra normale da crv questo è da dr04 un set che da noi non è ancora uscito ma konami visto l'andazzo di adesso potrebbe far uscire da noi ah porca puttana mi sono fatto malissimo un po' di alonima è l'usura del tempo cioè nel senso il clouding è normale bellissimo no ragazzi queste due può essere che entrano in collezione molto probabilmente sono proprio belle come dico io e vicino a questa ci dovrebbe essere un bottomless da cp diciamo il mio sogno è metterle una a fianco all'altra allora andiamo adesso con dunares che è da tp8 quindi molto più recente secondo me tp8 recente rispetto a libro della luna tp no tp8 è l'ultimo set poi c'è cp1 e l'unico della luna è più nuovo ma sai una cosa molto probabilmente il ragazzo che me la date lui ha fatto i tornei ha gustato sta roba l'ha messa in l'album all'epoca boh sti cazzi roba inutile e poi con l'andare degli anni questa cosa sale in maniera spropositata come anche questa chi se la inculava e adesso guarda un po' e vabbè anche lo scudo braccio malico ma penso che le condizioni siano tutte perfette vedo un po' di sporco sopra sia su questa che sull'altra però nel senso è roba che si può rimuovere tranquillamente guarda neanche un graffio c'ha sta roba quindi è entrata dentro l'album e non è mai uscita eh c'era botta qua ah 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 bisogna dargli meno soldi però beh euro in meno ah no questa è un po' graffiata qua in basso vabbè chi se ne frega meglio questa che il book scusa o il cyber and dragon no credo che il braccio sia di più bene diciamo che siamo siamo partiti col botto volevo lanciarlo per terra ma meglio di no possiamo scegliere ecco come la sì cosa preferisci i mostri o le trappole i mostri i mostri partiamo hard sì 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 siamo secco bam no ho preso le trappole vabbè va bene ormai l'hai aperto ormai hai fatto il danno bam le trappole cioè un Uyube l'incubo finale che non vedo benissimo un Demed Mock da Jok vediamo perché questo è in prima edizione wow 50 euro c'è un graffietto noto sì vabbè è un ex peccato peccato era una bella carta comunque cioè è una bella carta c'è anche un cosino qua su in alto peccato vabbè poi adesso il Demok che mi interessa di più perché è in inglese vabbè grazie ehi ho visto un angolo molle in alto a destra sì anch'io eh no questo non è bellissimo eh no quello c'è l'angolo molle sì un pochino vabbè è sempre un Demok e c'è anche una cosina su in alto vabbè non è perfetto questo ha visto giorni migliori però quanto è cavolo il Demok è sempre bello non gli puoi dire niente vabbè poi abbiamo questa forza riflessa da PMT io ne ho 7 quindi ti dico già che valgono 10 euro playhead poi è sempre a salire eh vabbè ma tanto questa è good playhead dai un good ok 12 euro dai di stata super market a 38 per forza nel senso poi vabbè abbiamo ordine imperiale limited cavaliere lama questo è molto bellino per gotto questo me lo porterò hai saltato due air knight par shot di cui uno super la db2 e uno in prima edizione da l'od ma va bene no no non si disdegna vediamo in prima edizione come è messo oh io no beh in prima edizione mi sembra bello il resto è bello c'ha un paio di depressioni ha preso una botta qua su in alto due vabbè vabbè comunque il fronte è perfetto allora poi abbiamo cavaliere lama che ve l'ho fatto vedere prima poi doppio strappa possesso controllare un po' le condizioni di tutto ragazzi perché eh no vabbè eh no niente peccato vabbè speriamo nell'altro poi sotto abbiamo anche un breaker da d db1 no dr1 dr1 si dr1 guarda che bello mamma mia e il problema sono i back eh ma con la roba old è sempre così ed è veramente difficile trovarle perfette queste carte tanto è roba che si giocava quindi ovviamente le carte sono state abusate stuprate e dai giocatori visto che facevano le shuffle fino a fargli prendere fuoco però questo breaker questo breaker sembra bellino eh allora dai ci voglio credere il front guarda com'è pulito è carino vediamo il back carino anche il back ha due graffi ah un paio di puntini bianchi in alto però nel senso stiamo parlando di una carta da dr01 che è stata anche giocata quindi dr1 dr1 e basta mi va anche bene mettiamole qua queste poi abbiamo questo cyber drago che è molto carino da ct03 in italiano un mago nero da pc y eh sì questo dovrebbe essere messo bene nel senso considerando il set è una carta da videogioco io ce ne ho uno sì 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 è pulito bello questo però io ho visto un'altra carta lì laterale non so se la luce ah un tribe infective virus super rare da mfc questo non ci credo che sia messo bene eh beh oddio non eh l'angolino a destra eh c'è un angolo rovinato sfortunatamente questo qua eh sì si vedeva rip eh vabbè peccato però per il resto è messo molto bene poi abbiamo anche aspetta un attimo ah ok un attimo mi sembrava super raro da un altro set però abbiamo il soldato cinetico da tfk sogno sogno eh vabbè anche questo da videogioco ed è messo discretamente bene il mago nero è messo meglio però poi abbiamo anche lì l'infezione fatata da db2 abbiamo questo gordo da dlg1 carino poi jara rino megamorf elfi dalon e questi potrebbero stare una cinquantina se messi molto bene perché comunque sono unlimited oh il front sembra pulito e anche il back ok c'è un qualche piccolalone invece metterei la firma avrei trovato tutte le carte così poi abbiamo dei giudizi solenni da cp01 questi bello il set no tutti e quattro oh un'altra carta firmata da longo grazie per avermene date tante poi vabbè vedo un paio di tributi torrenziali simpatici poi vabbè scambio di anime energia arcana al mondo guerriero di atlantide molto bellino da fotbo ultimate tel trasporto di emergenza ultra queste sono vabbè questa è roba abbastanza tranquilla prodigio infernale questo è carino per retroformat poi niente ho visto un po' tanti problemi in quella carta poi abbiamo due corvo di didastone che non so male e basta mi posso ritenere soddisfatto non all'altezza del primo ragazzi però non può essere sempre do mei allora passiamo con l'ultimo questi sono i mostri e vediamo dai dai dammi qualche qualche gioia c'è pure uno star last ultimate porco cacco penso sia tdgs o quei set lì le ultime espansioni che ha sbustato tanto oltre csoc non ho visto niente io ho già visto gol garka di crimson crisis ma va bene eh volevo dire crms non csoc sembra il front tenuto venino c'ha un puntino qua e vabbè il back c'ha qualche puntino bianco però nel senso a me va più che bene peccato che è un limited perché in prima poteva stare tipo a quattro volte tanto anche questo non costa poco eh comunque poi abbiamo golgar carino aslapisco e da rgbt rgbt c'è arrivato e un orlal orlal stanno tutti attanto questo si è in prima e sembra messo molto bene allora ha un punto bianco qua su in alto poi uno un paio qua giù in basso ah peccato per quell'angolo però nel complesso è tenuto molto bene beh sì l'orella su ultimate non ha senso guarda quanto è bello è bellissimo vabbè vabbè poi ho visto un'altra carta lì in fondo altrettanto importante retiari speriamo anche in questa bene perché è una carta da un po' perché stiamo a parlare è perfetta cioè questa è stata sbustata e messa qua dentro io un retiari così bello non l'ho mai visto non mi è mai capitato peccato sempre per la questione dell'unlimited però nel senso chi sono chi sono io procevia del caos procevia del caos in prima esiste solamente dei teen ah in quel senso sì sì se erai in prima potrei flippare di gioia sì no ma zia ho fatto jackpot vediamo adesso poi abbiamo il gran maestro secret in prima da stone bello guarda se fossero stati inglesi li avrei buttati tutte nella collezione mia lui penso sia il 6 samurai più bello che abbiano mai fatto i secret così la cosa bella è che il secret è solo sullo sfondo e non sulla carta cioè sull'arte del mostro ah peccato il re però a parte dei piccoli difetti piccoli anche un pochino più grossi sono tenute veramente da dio poi abbiamo il fratello abbiamo il grande shogun shien in prima edizione anche questo questo ho messo un pochino peggio però mamma mia guarda quanto è bello è un ottimo good per stare larghi però tanto ragazzi quando comprate gli nm sul market di questa roba sono messi peggio di questo quindi nel senso considera il primo car market per sta roba non c'ha senso due light and darkness dragon che questi stanno salendo a stecca cioè salendo sono saliti perché quelli common stanno a 10 euro mamma mia che bello di sì poi sono tenuti bene perché tanto questi erano da rivista se non ricordo male è tagliato un po' di merda però ok l'altro penso più o meno uguale sarà sono belli devi apprezzare ogni singola cosa che c'è qua dentro no 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 ma io adoro queste carte nel senso chi sono io per denigrare un light and darkness dragon da rivista questo è il fratello di frostosaurus praticamente sì serpente spirale peccato che ovviamente non è messo benissimo però però ha sempre un bellissimo artwork la rarità ultimate di cosa stiamo parlando è bella appunto ed è per questo che aprire i prodotti coreani con le ultimate dà sempre gioia jacksor descrizione poi abbiamo il doppio capitano gold ultimate sembrano tenuti bene sono bellissimi per aver 20 anni sì sì no ovviamente hanno dei difetti sul retro però come carte da giocare nel retro format vanno benissimo o anche da tenere in collezione se volete spendere un pochino meno rispetto alla prima edizione nm non da disdegnare la cosa positiva è che non c'è niente con le pieghe questo è tenuto anche meglio c'è un po' di sporco sopra questo è un excellent bello bello adesso mi compro il kit per restaurare le carte e faccio un disastro poi bellissimo mamma mia qua ogni carta è da controllare ragazzi guardate che bello cazzo diamante vabbè questo è rovinato ragazzi però è sempre un ragazzo diamante ultimate poi abbiamo doppio caius e poi una carta che molta gente ci si farebbe le seghe sopra io in primis le tigre ultimate prima edizione no tigre da laboratorio guarda qua prima edizione e sembra perfetta cazzo bello sono una pressione lì il back ha tipo tre punti bianchi ti giuro per questa roba faccio veramente fatica a venderla ma non perché è difficile da vendere a parte quello perché comunque è roba che costa ma perché sono proprio belle cazzo vabbè poi abbiamo un nitro guerriero da tdgs così a caso uno zerato in prima eraclinos tresciura carro dei gladiatori veramente qua c'è tutto gb alla massima tranne i playset diciamo che a singola copia ci sta mamma mia guarda che bello guarda benominaga no benominon guarda che bello in prima edizione vediamo un po' le condizioni anche di questo è un ex si dai fatemelo passare per un ex poi lì non ho vista un'altra ultimate incredibile veramente è questa che io voglio dire prima edizione e la ristampa ragazzi non sarà mai così bella nm meno così non è sporco però va benissimo va benissimo così ragazzi fra un po' mi metto a piangere perché è proprio bello sto lotto tanta roba finissima lucio nero anche il lucio nero è bellissimo è una delle carte preferite tornato del deserto cioè con un amico lui l'aveva trovato preso a scambio così la consideravamo una carta rarissima così perché era bella ed era super quindi lui me la scambiava a me io la scambiavo a lui quanto è figa sta roba è ok vabbè c'è un po' di feels di quando avevo 14-12 anni abbiamo mezzuki secret e basta abbiamo finito questa cavalcata in mezzo a roba abbastanza costosa vorrei mettere sta roba dentro perché altrimenti rischio di danneggiarla e non vorrei erenz cosa te ne pare di sta roba è stato worth come acquisto o potevo anche ovviare potevi ovviare e mandarle a me no no sono molto soddisfatto e ringrazio il ragazzo di averle volute dare a me rispetto ad altre persone solo perché mi seguiva detto questo ragazzi ovviamente il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se volete un altro videolotto perché mi dovrebbe arrivare qualcosina breve quindi probabilmente lo vedrete e ovviamente se avete qualcosa da dare via valuto in maniera precisa a parte i meme detto questo ragazzi state mesi e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti